La vaccinazione anti-covid sui bambini del 5 agli 11 anni in provincia di Teramo, iniziata il 16 dicembre scorso, va un po' a rilento. I genitori sono dubbiosi se far vaccinare o no i propri figli e tante sono le fake news che girano in rete e che confondono le idee. Per questo l'asla di Teramo ha messo in campo un progetto pilota con l'ausilio di un pool di pediatri e in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale. Gli specialisti visiteranno le scuole del territorio per una corretta informazione e per spiegare direttamente ai genitori l'importanza della vaccinazione. Un progetto per rassicurare i genitori e spiegare loro i veri vantaggi del vaccino. I genitori, secondo me, devono più aver paura della malattia che non del vaccino. Il vaccino è stato ben testato. Abbiamo ad oggi numeri importanti che provengono dall'esperienza americana e dall'esperienza israeliana che dimostrano come su una popolazione di più di 3 milioni di bambini vaccinati e più di 7 milioni di dosi effettuate gli effetti collaterali sono estremamente minimi. Intanto il Covid continua a far ammalare e tanto. In provincia di Teramo i dati cominciano ad allarmare. Solo oggi sono stati 28 i positivi. Nell'ultima settimana 686. In totale i positivi al Covid sono 1.954, di cui 35 ricoverati in ospedale e 2 in terapia intensiva. C'è preoccupazione, direttore, per tanti nuovi positivi? È ovvio che preoccupazione per i tanti positivi che abbiamo, preoccupazione per questa variante che si dice altamente contagiosa e temiamo che se ci saranno tanti positivi sul territorio si possono avere anche delle ripercussioni a livello ospedaliero che possano compromettere le attività che oggi abbiamo fortunatamente ripreso. Abbiamo alzato l'asticella di guardia negli ospedali e abbiamo previsto gli eventuali scenari che possono verificarsi e speriamo di mantenere questo trend che oggi abbiamo. E poi questa grande festa per i bambini per invitare anche i genitori a vaccinarli? Certo, il mondo dei bambini è un mondo che oggi comincia a essere anche preoccupante perché sono tanti che si contagiano e quindi dobbiamo pensare anche alla salute dei più piccoli, soprattutto facendo capire perché loro purtroppo sono bambini e non è che hanno la possibilità di decidere il loro futuro. La decisione spetta ai genitori? Noi vogliamo interfacciarsi con loro per far capire loro le ragioni per cui è importante vaccinarsi. Grazie.